Salve a tutti ragazzi e qui ci guardiamo di questo video video, siamo tornati con la carriera al Natore con il magico Cagliari e con iCraft Oggi siamo in ultimo video di questa settimana perché oggi è venerdì e dobbiamo fare un'impresa Ok dobbiamo fare un'impresa perché clicchiamo nel calendario e abbiamo Frosinone Che non è difficile, Roma ed infine Napoli quindi molto 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 difficile Oggi subito contro Frosinone andrò a fare un singolo cambio Facciamo esordire Ampadu e basta Sì è basta Ampadu e basta perché tutto il resto magari giocano dopo ok Perché me la sento buona così Lo facciamo esordire perché deve esordire finalmente perché non l'ha ancora esordito E visto che ci serve vi chiedo anche di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto Ovviamente trovate tutti i link in descrizione, i miei e il mio grafico in descrizione Ehm leggenda 5 minuti sereno, speriamo bene Prima valida di oggi, Cagliari, Frosinone Sancho che cazzo ti sei mangiato? Super cranio, mica pensavo fosse gol cazzo Nicolino mamma mia sportiello che cosa mi ha tolto porco Giuda No, Castro Patrick Schick è ancora sportiello Non ci credo mamma mia cragno Cazzo meno male Che cazzo mi ha tolto anche adesso però raga Non ci credo, mamma Che cosa ha tolto Pavoletti Pavoletti all'ottantesimo Su Prostitia Cazzo Cazzo Eh vabbè sportiello comunque ha preso un gol ma me ne ha tolto Assurde proprio Dai vinta, 3 punti Ma sudata, l'ho sudata a scoppio questa Allora dobbiamo sfidare la Roma E la Roma non è semplice Vedo noi siamo 10.000 La Roma è settima in zona Playoff per l'Europa League È a 57 Quindi abbiamo 10 punti di distacco Ma la Roma è anche una partita in meno Quindi Non per dire ma siamo al 99% obbligati a vincere Quindi Io Clavan sinceramente me lo lascerei in panchina E infatti Cioè in tribuna Perché ha giocato troppo bene Ok quindi Mi sembra molto brutto toglierlo Ha fatto un partitone E quindi È giusto che Che rimanga in campo Pampadussi Leggenda 5 minuti Sereno Siamo pronti Seconda partita di oggi Roma-Cagliari Ma soprattutto la partita per Della vita per Schicke Che appena Ci ha appena trasfitto dalla Roma 6 mesi e basta Anzi Nemmeno 6 mesi c'è qua È della partita dell'ex E hanno già preso palo Sancho 1-0 Sì Dopo 12 minuti Mamma mia Che godura Che godura cazzo Sancho 1-0 Attenzione Pericolo Joao 2-0 Dopo 20 minuti 2-0 veramente È la ballerina Della Becky Pavo 3-0 Chiusa la partita Dopo 27 minuti Se fai 3-0 Alla Roma L'hai vinta Per forza Però bisogna stare attenti Perché comunque Hanno già accorciate Che cazzo Mamma mia La traversa è grande Dei rossi Che mi prendi la traversa Posso disegnare Finita Secondo te Molto molto blando Perché l'ho tenuta Nel possesso Pallo Ho fatto entrare Anche gente Che non poteva entrare Tipo Pellegrini Quelle cose lì Quindi Ho fatto un po' Di turnover Visto che ormai Eravamo 3-1 L'ho tenuta Il secondo pensile Della primavera Questo Guardi Lo teniamo Watson Lo vendiamo Santoro Lo teniamo Ferrari Mi dispiace E poi Questo rossi Per forza Cioè Sotto il 90 Tipo Questo No Cioè Tutti questi lì Tengono Allora Il Napoli a quarto Ha 61 punti Noi siamo noni Con 50 punti La Roma Ancora lontana Comunque Anche una partita in meno Ed è settima A 7 punti di stacco Quasi impossibile Ma Tentar Non nuoce Barella Intanto Ho ripetuto 80 di overhaul Tengo sempre Ampadu Perché veramente Mi è piaciuto E Raga Per forza così Andiamo avanti Leggendo 5 minuti Sereno Io sono carichissimo Terza Ed ultima partita di oggi Napoli Casteddu Non ci credo Sul rimpallo così Non ci voglio credere Dai Che cazzo Mi ha tolto qui Non ci credo Dai dai Sancho Devi trarre meglio Sancho Parata Non ci credo Guardate il casino Non segno Sancho Sì Sì Sancho Joao 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 Sbagliami questo Eh Ma mica Mi ha sbagliato Anche questo Cazzo Cragno Un nome E un portiere Ancora E abbiamo subito Il gol Invece No Perché è fuorigioco Ma soprattutto Cragno L'aveva parata Che cosa Non ci credo E niente Un pareggio Che è Comunque È oro Ragazzi Perché siamo Contro Napoli Oro Allora Prima di chiudere il video Andiamo a vedere Due secondi Gli osservatori Se mi hanno trovato Qualcosa di decente Per il momento Solamente Uno Ok Il primo osservatore Mi hanno trovato uno Quei I croati Quest'anno proprio Schifo Alla morte Infatti Vediamo l'italiano Non penso Che riescano a trovare Infatti Abbiamo trovato Praticamente un cazzo Motiviamo i ragazzi Per la prossima partita No Spera nulla Cagliari Motiva E siamo pronti Il prossimo video Dovremmo fare un miracolo Ragazzi Perché il turino È settimo in classifica Va bene Per farvi capire Guardate un attimo È settimo in classifica E ha esattamente 8 punti di stacco Da noi Dovremmo Sperare di vincerle Tutte e tre Quindi di battere Lazio Genua Ed Udinese E il Torino E il Sassuolo Dovrebbero perderle Tutte e tre Cosa impossibile Però Va bene lo stesso Quindi Il video di oggi Si può concludere qua Questa settimana Si può concludere qua Ci vediamo lunedì Sempre con la carriera Allenatore Col Cagliari E con Icraft Ci vediamo Si Come oggetto lunedì Vi chiedo di lasciare un like Di scrivere il canale Se però l'avete fatto Trovate tutti i link In descrizione Non è nulla di obbligatorio Ma vi invito sempre a farlo Ci vediamo lunedì Bella